Musica Mercoledì 25 aprile prendono il via a Villa Franca Piemonte due iniziative. La mostra itinerante I luoghi del Consiglio Comunale dei Ragazzi che nell'ambito delle celebrazioni per il 150enario dell'Unità d'Italia presenta ai lavori degli alunni di tutto il Piemonte partecipanti al concorso del Consiglio regionale e la mostra 2007-2012 la storia del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Villa Franca Piemonte. La rassegna sede nell'ex monastero della Beata Vergine delle Grazie ed è visitabile fino a domenica 6 maggio.